Lo shopping senza il principe al fianco, forse è più tranquillo. Carmela Gualtieri dal monomarca di Guido Pasquali a Milano va da sola, di George Leonard nessuna traccia. L'ex G Fina compra scarpe fashion perché a look ha sempre tenuto, ora chiuna del mondo dello spettacolo ancora di più. Del resto lo scelerato video mostrato dalle Viene lo dimostra, anche con qualche aspetto più che riprovevole della siciliana. Dopo gli acquisti via di corsa, sorrisi e saluti pure a qualche fans che cerca di digiuneggiare con la bella. Ma lei, innamorata, filadritta.